ciao a tutti ben trovati in questo duemilaventitré sono Michele Leone vi do il benvenuto sul lexicon simbolorum come vedete abbiamo già Marco Maculotti in linea con noi cosa dire grazie dell'invito come sempre dell'ospitalità e grazie anche al tuo pubblico che sta seguendo e che seguirà la diretta ma grazie a te come sempre dopodiché cosa dirvi se vi piace i nostri video cliccate sul campanella per ricevere le notifiche iscrivetevi al canale e trovate in descrizione i link sia per la newsletter gratuita sia per sostenerci su Patreon ci vediamo con Marco subito dopo la sigla di nuovo buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a Marco per chi non lo conoscesse Marco Maculotti è il padron il fondatore il cervello dietro axis mundi e dietro axis mundi o edizioni axis mundi se per caso per errore non conoscete axis mundi lo trovate come blog online su youtube su facebook e trovate anche tra i nostri canali amici axis mundi oggi siamo qui per iniziare un nuovo anno l'anno scorso abbiamo avuto una madrina Corinna quest'anno abbiamo un padrino per l'anno di lexicon Marco e cogliamo l'occasione per parlare dei riti tra la fine e dell'inizio dell'anno e facciamo un po di sana pubblicità tanto Marco non mi paga al secondo albo di axis mundi che vi faccio vedere quest'anno ha il titolo escaton fine del ciclo cosmico e feste di fine anno lui ovviamente che è bravo alla copia io che sono un po più monello non ce l'ho ma partirei subito con una domanda Marco che cosa significa escaton ecco questa giustamente la domanda da cui iniziare stasera per capire di cosa stiamo trattando e anche per capire perché in questo albo tematico si tratta sia della fine del ciclo cosmico quindi un'interpretazione cosmo teologica astro teologica della storia delle religioni sia delle feste di fine anno che invece hanno più a che fare con il rito con le conoscenze che poi sono andate a informare il folklore locale e escaton dunque escaton cosa significa escaton è una parola latina da cui deriva prima greca poi trasportata nel latino da cui derivano tutti quegli studi che riguardano la fine del ciclo cosmico in altre parole detto più cristianamente la fine del tempo presente o la fine del tempo intesa appunto come tempo lineare e l'escaton quindi sarebbe il momento conclusivo del ciclo cosmico ma siccome nelle antiche tradizioni indoeuropee soprattutto l'anno era visto come un ciclo cosmico in miniatura vedremo che le feste del di fine anno praticamente vanno si pongono diciamo come una versione microcosmica delle della teoria della fine del ciclo cosmico non so se qualcuno di voi ha letto quella enciclica di ratzinger che tra l'altro è molto proprio in 31 dicembre ed è un evento pienamente scatologico questo è quella enciclica in cui dialogava parlando del sostizio invernale nelle tradizioni pagane e nella sua trasformazione nel natale cristiano lo stesso razzinger quindi uno dei teologi più importanti dallo scorso secolo ha messo in rilievo come ci sia un legame sacrale che va al di là delle varie fedi religiose tra la fine dell'anno e la fine del ciclo cosmico nell'albo ci sono i primi due articoli che analizzano questo questa corrente escatologica in centrata sulla fine del ciclo cosmico che sono il mio primo e secondo che era il professor nuccio d'anna che probabilmente a qualcuno di voi conoscerà perché dirige la rivista atrium e io cerco di analizzare queste credenze nella tradizione apocalittica cristiana ma in rapporto con la tradizione pagana immediatamente precedente quindi quella greca e romana degli oracoli sibillini nel caso del secondo articolo di nuncio d'anni invece lo analizza da un punto di vista dell'induismo partendo dai veda dagli antichi veda se noi andiamo ad analizzare il rig veda viene detto che l'altare l'altare del sacrificio è un'immagine dell'anno e anche nel cristianesimo si può vedere l'altare come ovviamente al di là dei rituali che vengono fatti durante la messa come una cristallizzazione insomma del mondo materiale sul quale il sacerdote e tutti i fedeli con lui ovviamente interagiscono durante la messa quindi chi segue axis mundi lo saprà che io ho una predilezione accademica verso le religioni pre cristiane però quello che cerco di fare anche in quest'album è mostrare come tradizioni sacre che siano pagane cristiane o di altri tipi nascondono un mistero relativo al ciclo cosmico e alla sua fine e un mistero che appunto è apocalittico apocalittico nel senso sia nell'accezione moderna del termine sia in quello originale di giovanni ovvero rivelazionario queste teorie escatologiche sono fondate sulla rivelazione sulla rivelazione che l'anno è un micro è un ciclo cosmico in miniatura e che l'uomo stesso è una miniatura del dello spirito divino che attraverso il ciclo cosmico nasce e muore continuamente esattamente in qualche modo anche se scherzavamo prima sul sui solstizi è inevitabile citarli perché il ciclo cosmico gli inizi e le fini sono alla fine le porte solstiziali in qualche modo poi traslate di qualche giorno a seconda delle tradizioni ma il grande punto di riferimento se non erro sono le porte solstiziali assolutamente sì sulle porte solstiziali c'è appunto il terzo articolo che vedete nel nell'indice quello di antonio bonifacio è un autore che ha pubblicato per simmetria una casa editrice correlativa rivista di roma e con venezia editrice tra le altre che abbiamo già avuto ospite sul canale di access mundi che poi avremo di nuovo ospite prossimamente l'articolo di bonifacio appunto incentrato sulle porte solstiziali è a metà tra astro teologia quindi una visione cosmica del della religiosità antica ma è anche incentrato sull'archeologia perché dimostra come già molto anticamente vale dire ne paleolitico addirittura dall'analisi di pitture rupestri di siti megalitici molto antichi si riesce a comprendere come già nell'antichità più remota l'uomo religiosus questo termine reso noto da iliade l'uomo nella sua condizione di creatura religiosa di creatura protrata verso il sacro conosceva già il i sostizi e gli equinozi e cercava di riflettere questa sua conoscenza nelle nelle sue pitture rupesti nei suoi elementi megalitici di costruzione ovviamente questi elementi sostiziali sono presenti anche nelle chiese cristiane per esempio in alcune chiese al momento del sostizio invernale si allinea la luce nella navata principale e appunto bonifacio cerca di dimostrare come questa conoscenza cosmoteologica sia rimasta inalterata nella sua profondità e sia cambiata solo in superficie alle costruzioni megalitiche e alle pitture rupesti sono poi ovviamente si sono subentrate nel tempo le chiese cristiane o i tempi pagani ancora prima però la conoscenza dei sostizi come porte dell'anno come momento in cui il ciclo cosmico cioè l'anno finiva il ciclo cosmico in piccolo l'anno finiva e iniziava l'anno successivo questo momento di confusione prima della rinascita dell'anno e del dio sole buttiamo lì misteri lusini l'epifania di oggi che è il 6 gennaio che sarebbe la data secondo quine misteri lusini sarebbe rinato fanes il dio luce e quindi una serie di credenze sacrali che nonostante le fedi religiosi che si sono avvicendate nei secoli e nei millenni si dimostrano come ci esista una tradizio perenni se addirittura secondo bonifasso appunto citato ora dal paleolitico addirittura questo è molto affascinante tu parlavi giustamente del 6 gennaio facciamo vedere le immagini di bonifasso per favore non ho sentito scusami possiamo far vedere l'immagine di bonifasso sì allora aspetto un attimo pagina 33 questa è prima sì sì questo qui è l'articolo di bonifasso e queste sono appunto le immagini che mostrano l'ingresso della luce sostiziale nei vari siti e poi se vai qualche pagina prima facciamo vedere anche la copertina dell'articolo ecco questo è sito di new grange in irlanda che è stato edificato mi sembra non ricordo male 4 mila anni prima di cristo e è uno dei siti più famosi nelle isole britanniche forse più famoso dopo stone age soprattutto per questa sua caratteristica sostiziale del sole che entra perpendicolarmente nella camera ipogea nei sostizi appunto sono argomenti affascinantissimi ma tornando al 6 di gennaio ci sono c'è un articolo in particolar modo che mi ha colpito che è il falò della giobbia che ancora oggi molti luoghi della provincia italiana soprattutto del nord italia viene festeggiato quindi che cosa rappresenta il falò della vecchia o della giobbia ecco allora l'articolo è di francesca sicora che è andata ovviamente vive in località dove ancora viva questa tradizione è andata a fare fotografie che sono presenti anche nell'albo e a descrivere il substrato folclorico di questo rituale quando si parla di giobbia o di befana o di vecchia sono delle degli epiteti che in cui dietro cui si riconosce una tradizione mitte d'europea germanica quella della dea percia questa dea vecchia che nel passaggio dalla fine dell'anno all'inizio dell'anno successivo era veniva esposta con maschere e con combattimenti rituali tra le perce vecchie e le perce giovani ora questo sistema rituale e mitico lo troviamo in tantissime tradizioni addirittura in nord america addirittura in asia si trovano degli scontri alla fine dell'anno tra due schieramenti di persone mascherate che ovviamente sono l'immagine terrena l'immagine rituale di spiriti potenze dell'altro mondo e in senso naturalistico in senso stagionale si può vedere queste due schiere come la primavera che vuole rinascere e che sta sotto la neve e invece la stagione invernale che deve essere bruciata in questo falò per permettere alla luce primaverile di ritornare in vita ogni anno la giobbia come tu dicevi è una tradizione che è rimasta ancora viva nel nell'italia settentrionale in cui viene il fantoccio di questo personaggio viene bruciato in un falò sono rimaste solo in pochi posti queste battaglie rituali di cui parlavo precedentemente e sono state spesso spostate qualche mese più avanti nel carnevale perché cioè a febbraio marzo perché noi dobbiamo capire che quelle antiche tradizioni che nell'area celtica per esempio venivano festeggiate sotto allu cioè sotto samain quella che poi diventata allu in profanizzata e diciamo novembre inizio dicembre poi nel nostro calendario mediterraneo è stato spostato più avanti quindi verso appunto carnevale sono feste comunque mascherate carnevalesche quindi non sapendo più dove inserire in un calendario ovviamente quello cristiano che aveva considerato come demoniaci tutti questi riti sono state messi in questo calderone del del carnevale su questo argomento è anche importante sottolineare come le antiche feste solstiziali siano state per così dire divise in due da una parte la festa sacrale che è quella del natale e dall'altra il capodanno che avviene qualche giorno dopo ed è appunto la fine dell'anno in senso profano se noi andiamo a vedere nell'antica roma per esempio queste la festa del sostizio era una e durava vari giorni saturnali appunto sacri a saturno in quanto dio dell'età dell'oro quindi vediamo come la fine dell'anno è in qualche modo il rituale della fine dell'anno nell'antica roma era fondata su fondato sulla figura di questo sovrano mitico dell'età dell'oro che sarebbe dovuto ritornare al termine del ciclo cosmico quindi che ne dicono molti teologi cristiani un'escatologia di questo tipo era ben presente anche nell'antichità greco romana e soprattutto poi negli oracoli sibillini come ho cercato di dimostrare nel mio l'angelo dell'abisso anche in questo estratto poi pubblicato in questo albo a proposito di angelo dell'abisso eccolo qui se non distruggo tutto vi consiglio la lettura dell'angelo dell'abisso che è un fantastico libro adesso apriamo un piccolo spazio pubblicità cosa bolle nel calderone di axis mundi allora come chi segue axis mundi già saprà e sono state aperte le prevendite al sostizio invernale per l'appunto della seconda pubblicazione paperback di axis mundi edizioni si tratta di un testo di andrea casella che probabilmente se seguite almeno il sito conoscerete perché è stato uno degli articoli degli articolisti di cui abbiamo pubblicato più articoli si tratta di un testo ancora una volta di astro teologia di cosmo teologia ancora di più di quest album che stiamo presentando oggi è un testo ispirato soprattutto a un classico della sottologia la macchina il mulino di amleto di santiana descende pubblicato da originariamente da adelfi il libro di casella si chiama appunto la macchina del tempo saggio sulla cosmo teologia arcaica un attimo che sto cercando se non lo puoi lo puoi trovare te così lo mostriamo in la copertina del libro dopo l'articolo sul cavallo di casella dovrebbe essere una pagina a seconda un po di pagine eccolo vabbè lo mostro io guarda eccola vabbè mando avanti qualche pagina no lei mi sa che l'hai spuntato questa è la copertina del libro 360 pagine ancora voler sottolineare la dimensione ciclica del testo in analisi il formato identico quello dell'angelo dell'abisso quindi intermedio tra la cinque la quattro solito segnalibro illustrazioni dichiara silvia salvini che è presente anche in questo albo con varie illustrazioni stupende illustrazioni che dire del testo di casella è un testo sicuramente come io spero che sia l'angelo dell'abisso complesso quasi un testo che sembra una cattedrale nei vari capitoli come si vanno intersecare il discorso che porta avanti casella è astroteologico ma non solo ridotto alla tradizione occidentale lui cita molto anche l'egitto cita la babilonia la mesopotamia in generale cita addirittura le tradizioni amerindie soprattutto quelle inca e maya e il quadro che ne deriva è comunque sempre quello di una sapienza perenni di una conoscenza sacrale che per larghissima parte della storia dell'umanità per quasi tutta la storia dell'umanità non è mai stata disgiunta da un piano cosmico da un piano possiamo dire anche parashamanico nella visione del cosmo come formato da vari strati a cui si può accedere cui si può discendere e ascendere quindi una religiosità che non è fondata solo su una dimensione moralistico morale e su una dimensione devozionale ma anche soprattutto sulla sulla sapienza sacra dell'antichità che era strettamente connessa ai cicli cosmici ai movimenti dei pianeti alle costellazioni all'osservazione del cielo assolutamente tornando a alle feste di fine anno e inizio anno ovviamente non poteva mancare un tuo un articolo su lovecraft visto che una delle tue passioni la letteratura di questo genere cosa c'entra però lovecraft io sai che ho fatto otto volte la prima con questo albo e con passami il termine italianizzato l'escatologia ok allora innanzitutto l'articolo è di miranda gurzo non è mio è giusto dirlo e miranda è l'autrice di una versione del necronomicon che è uscita qualche mese fa che lei ha ricostruito personalmente dalle lettere di lovecraft e dai dagli estratti dei racconti dell'autore di providence e perché ho voluto inserire anche un articolo che non c'entra strettamente con la storia delle religioni ma anzi c'entra con la letteratura fantastica e orrorifica in un certo senso perché lovecraft innanzitutto era un grande appassionato di tradizione sacra antica pagana e in questo racconto the festival che è uno dei più famosi tra i primi che scrisse dovrebbe essere del 20 o del 21 se non ricordo male viene descritta un rituale di iule cioè l'antico sostizio di inverno dei paesi anglosassoni e nordici e viene però messo in rilievo come lovecraft sia epigone del suo tempo e quindi nel suo tempo ovviamente secolarizzato razionalizzato e quindi tutti quegli elementi che nell'antichità potevano conferire all'uomo la possibilità di una trascendenza della sua finitezza ecco da un punto di vista lovecraftiano diventano invece motivo di orrore motivo di di terrore di sentirsi comunque depersonalizzati quando invece l'uomo antico cercava questi momenti di depersonalizzazione per potersi inserire in archetipi divini di tipo no oltre umano possiamo dire quindi è curioso innanzitutto il fatto che lovecraft abbia abbia dedicato un uno dei suoi primi racconti più famosi al sostizio d'inverno in senso nordico pagano perché lovecraft era era protestante come sappiamo e poi appunto è curioso vedere come quegli elementi appunto di trascendenza di luminosità che noi troviamo nelle tradizioni antiche pre cristiane da un punto di vista di una mente per quanto geniale per quanto molto avanti con i tempi come quella di lovecraft diventino inevitabilmente di segno negativo di segno addirittura demoniaco a proposito di orrore e demoniaco babbo natale tra virgolette babbo natale compare almeno due volte in questo albo il primo vediamo qui la l'immagine di copertina dell'articolo scritto da te sul no non è sito da sito da mio fratello questo a matteo ma io non vedo niente è un maestro di scuola primaria che è esperto di letteratura dell'infanzia e quindi ha analizzato questo tema perché è strettamente connesso appunto con le credenze dei bambini anche i bambini centrano con con i miti sul crampus con la tradizione folclorica in realtà anche l'altro articolo che tu menzionavi su babbo natale natale giustiziato appunto lei cerca di mettere in rilievo partendo da questo storico testo di levi strauss la funzione distributiva di babbo natale che noi poi troviamo anche nel crampus la funzione distributiva significa il fatto che questi personaggi danno un dono oppure una punizione alla fine dell'anno come anche santa lucia che può portare il carbone o la befana anche con la calza il carbone tutto quanto quindi tutti questi personaggi hanno una funzione retributiva e come dimostra bene federica zigarelli in un mondo precristiano non vi era una distinzione tra personaggi demoniaci e non delle feste di fine anno anche qua si sono divisi in seguito col cristianesimo per esempio il crampus è la versione demoniaca di san nicola che è una specie di babbo natale antelitteram oppure anche nel caso appunto di del fatto di babbo natale giustiziato della zigarelli vediamo che originariamente babbo natale sostitui in pratica lo spirito dell'inverno questo divinità che ma dei lati odinici soprattutto come conduttore della caccia selvaggia quindi queste divinità di fine anno avevano dei lati oscuri diciamo così solo che si sono divisi in demoniaco e non in questi personaggi solo in una fase successiva in una fase moderna ecco ecco a proposito lei citata anche se adesso esuliamo un attimo dall'albo questi sono i giorni della caccia selvaggia esatto 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 cosa è la caccia selvaggia per quelli come me che l'hanno solo sentita nominare ma non l'hanno mai studiata ecco diciamo due parole connettendoci a quanto dicevamo prima sui combattimenti rituali di fine anno questi combattimenti rituali che vengono messi in scena nelle nei riti del folklore di fine anno con mascherate pagliacciate eccetera sarebbero una versione terrena degli scontri dicotomici tra gli spiriti come abbiamo già detto gli spiriti della primavera e dell'inverno della certità e della siccità del bene del male della luce dell'oscurità la caccia selvaggia sarebbe appunto uno di questi cortei fantasma che vengono descritti da alcune fonti come una processione pagana come il dianaticus cioè la processione dell'antica dea diana da un'altra parte vengono descritte come una torma furioso una torma di guerrieri e vengono connessi soprattutto la figura di odino e odino il conduttore della caccia selvaggia e che poi nel full colore moderno ha preso diversi altri diverse altre forme cavaliere senza testa pensiamo sui slipiollo per esempio oppure il l'old nick ci sono una serie di figure che vanno a sostituire appunto dino come conduttore della caccia selvaggia pensiamo anche a carlo quinto tutte queste divini e questi sovrani anche il barbarossa che una volta defunti venivano visualizzati a capo di questa caccia selvaggia ora se noi andiamo ad analizzare il folklore norreno riferito a odino e lo mettiamo in confronto con quello induista con rudra che è il dio della tempesta furiosa e al suo seguito i marut o i rudra che sono appunto gli spiriti della tempesta vediamo che c'è una grossa connessione con odino che lui stesso è dio della tempesta e del vento furioso e questa schiera che lo segue che è quella degli enerial cioè dei salvati da odino e portati nella val alla che alla fine del ciclo cosmico dovranno affrontare le forze del buio dell'oscurità i giganti vediamo questa connessione con questo esercito furioso che però non ha un lato solo terrifico negativo ma anzi alla fine del ciclo cosmico e sarà questo esercito che insomma cercherà di arginare le forze del caos che distruggeranno il mondo alla fine di tutto esatto poi c'è un altro articolo anche se ci porta un po indietro nel tempo nel senso che ci porta già più verso fine ottobre inizio novembre ma dell'amico massimiliano palmesano che è stato anche nostro ospite sui cicci il pasto è la schiera dei morti ecco infatti qui l'argomento ritorna la schiera perché questa schiera ritorna sempre perché stiamo parlando di riti di fine anno e alla fine dell'anno all'inizio dell'inverno quando i giorni diventano più brevi le notti diventano più lunghe è come se il nostro collegamento diciamo così razionale semplicemente con il cosmo venga un po' meno si si slacciano un po questi lacci che tengono separati i piani e quindi questa schiera dei morti come dicevamo degli spiriti che dir si voglia si presenta in questo momento dell'anno quando l'anno sta per finire e prima che stia per iniziare quindi gli ultimi mesi i primi mesi dell'anno da qui anche le feste carnevalesche che durano fino a febbraio cioè prima del sostizio dell'equinozio primaverire quindi ancora prima del ritorno della luce l'articolo di massimiliano è molto importante perché mette in risalto come delle tradizioni che noi pensiamo spesso ovviamente chi non si interessa di queste tematiche come moderne e quindi antitradizionali come appunto l'halloween è già menzionata anglosassone siano in verità una versione moderna profanizzata di feste sacre dell'antica Samhain sceltica con cui si iniziava appunto la stagione invernale oppure da tradizioni come quelle di cui parla appunto massimiliano che hanno a che vedere con l'italia lui analizza l'italia meridionale però anche nell'italia alpina si trovano delle tradizioni appunto afferenti al periodo tra fine ottobre inizio novembre poi inizio dicembre che hanno a che fare con questo tipo di tradizioni diciamo così alla halloween quindi anche il fatto di scrivere le zucche o le rape poi nel mondo britannico noi lo ritroviamo in queste contrade degli appennini delle alpi e a dimostrazione anche poi di una interconnessione comunque tra le varie tradizioni sempre ricorrente anche il simbolo del fuoco che va spento e poi poi va riacceso ci sono una serie di simbolismi che anche se affondati in qualche modo in una spiritualità unicamente folclorica si comunque si riescono a comprendere se si analizza un po bene tutto il quadro esattamente adesso veniamo però a un tuo articolo perché è marco l'ho letto dal pdf ingrandito il substrato arcaico delle feste di fine anno e la valenza tradizionale dei dodici giorni tra natale ed epifania perché noi spesso siamo per mille motivi abituati a pensare a natale a capodanno all'epifania come dei luoghi separati perché nel mezzo lavoriamo e facciamo tante cose ma in realtà in un contesto tradizionale di sacro è il periodo che conta più che il giorno esatto noi abbiamo perso il concetto di periodo per noi c'è quel giorno e ci deve andare bene così e il periodo di dodici giorni è particolarmente centrale nel discorso che stiamo facendo stasera perché come l'anno è la versione microcosmica del ciclo cosmico questi dodici giorni tra natale e l'epifania sono considerati un'anticipazione dei dodici mesi dell'anno che segue perché sono quali tra natale e epifania perché come detto è il periodo della cosiddetta crisi sostiziale quel periodo in cui l'anno vecchio muore e l'anno nuovo non è ancora nato sono quegli infragiorni oltre giorni come li chiamavano i scelti in cui appunto le porte del mondo spirituale si aprono e l'uomo ci può entrare in l'essere umano ci può entrare in contatto e i dodici giorni tra natale e l'epifania in realtà anticamente erano i dodici giorni tra sostizio invernale chiaramente qualche giorno prima e qualche giorno prima dell'epifania questo quantomeno in ambito nordico e celtico invece in ambito mediterraneo come abbiamo già menzionato la data del 6 gennaio nei misteri eleusini stava a dimostrare che comunque il 6 gennaio aveva una rilevanza anche nell'antica grecia come detto in quel tipo di misteri antichi l'epifania era il giorno della rinascita del dio di luce della rinascita della rinascita del dio anno alla fine ma questo dio anno non va visto semplicemente come una verso una versione antropo formizzata diciamo così dello spirito naturalistico dell'anno quindi della primavera del sole primaverile o del calore primaverile ma va visto invece appunto ancora una volta come lo spirito che informa tutta la manifestazione cosmica attraverso il ciclo cosmico considerato interamente e quindi ancora una volta dietro delle tradizioni che noi pensiamo solo folcloristiche come quella anche della befana che il 6 gennaio sostituisce questo questa antica tradizione pagana in realtà anche la befana sta come abbiamo già detto è immagine è il mago del dell'anno che muore dell'anno morente e che quindi va bruciato per permettere la rinascita della luce e qui ritorniamo al discorso dello spegnimento dei fuochi e dell'accensione dei fuochi all'inizio dell'anno nuovo e anche del famoso ceppo di iule questo ceppo di natale che assorbe il fuoco del sostizio della notte più lunga dell'anno e poi viene utilizzato a scopo magico nel resto dell'anno per proprio perché si si ritiene che in questo ceppo sia conservata in luce la potenza di luce che sta dietro a tutto il ciclo cosmico appunto esatto poi visto che abbiamo parlato di epifania c'è un articolo del di massimo centini che salutiamo con affetto sui re magi tra altre cose sull'argomento massimo ha scritto negli anni più articoli e anche un paio di libri è giustamente un occhio diverso verso quelle che sono le feste sacre includendo passami il termine virgolettato la nuova religione che è il cristianesimo assolutamente sì la cosa importante dell'articolo di massimo centini che non penso abbia bisogno di presentazioni noto antropologo torinese che attivo da penso 50 anni se non di più è questo suo metto in ridievo come l'archetipo dei tre magi vada molto indietro rispetto al cristianesimo si sta parlando di tradizioni che afferiscono alla religiosità mesopotamica medio orientale caldea i magi sono gli astrologi del calde caldaici caldei che dir si voglia si può dire in tanti modi quindi dei dei magi nel senso astro teologico del termine non semplicemente ritualistico ma proprio della conoscenza degli astri delle stelle che ovviamente di conseguenza portano la conoscenza sul mistero del ciclo cosmico dell'escatologia da qui appunto la menzione di questa stella che avrebbe guidato i tre magi verso appunto la capanna dove giaceva il bambino gesù appena nato e anche qui è curioso che avvenga il 6 gennaio secondo la tradizione secondo il calendario sacro cristiano ancora una volta il 6 gennaio è il momento in cui il dio luce dell'anno del ciclo cosmico rinasce continuamente e ci sono delle interpretazioni sul su questa stella di betremme attraverso i secoli ce ne sono state molte ma pare che la più probabile sia che fosse una congiunzione eccezionale tra giove saturno questi due pianeti che anche nella mitologia pagana greca romana contengono noi in questo scontro il mistero della dicotomia dei cicli cosmici dell'età dell'oro e dell'età poi successiva del tempo divoratore diciamo e perché allora importante perché immagini qualche modo aggiornano questa tradizione ma in realtà loro stessi sono antichi sono dei degli astrologi caldei quindi vediamo come la tradizione cristiana non sia nata ex novo ecco si anzi la devozione su verso la figura del cristo sia fondata su una devozione che esisteva già prima e che ha a che fare appunto col mistero escatologico cosmico astro teologico che dir si voglia assolutamente a questo punto non ci resta che a ringraziarti di invitarvi a prenotare se ce ne sono ancora la vostra coppia di questo albo di axis mundi invitare marco per un'altra chiacchierata magari più approfondita su un tema specifico anziché andare a volo d'uccello ma era anche simpatico iniziare l'anno con una chiacchierata più leggera magari di quelle che di solito facciamo inviteremo ovviamente per la presentazione del secondo volume di andrea casello axis appunto quindi sei impegnato a questo punto non mi resta che dirvi uno se vi piacciono i nostri video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella c'è rimasto l'ultimo posto disponibile per il corso sui papiri magici di simone baldacci quindi se siete interessati inviate una mela a lexi con simbolo rompio la gmail.com freschi di stampa ma non perché vogliamo fare concorrenza a marco a nessun altro abbiamo pubblicato questo volumetto se vi interessa non vi sto dicendo volutamente niente inviate una mail a lexi con simbolo rompio c'è la gmail.com per il resto per ricevere dispense approfondimenti serata in esclusiva abbonatevi alla nostra pagina patria per permetterci di crescere a questo punto buon inizio d'anno a tutti e che sia un anno proficuo soprattutto per te marco e per axis mundi che ha tante cose da fare ovviamente noi non abbiamo spoilerato niente ma dietro le quinte mi hai detto qualcosa di molto interessante no grazie a tutti era grazie michele grazie a tutti voi alla prossima